Come ogni Natale, il team di Linux Mint ci regala una versione punto dispari della sua ultima release LTS, cioè con supporto e aggiornamenti garantiti per 5 anni dalla versione madre. Il team si è dedicato con successo ad alcune problematiche che sono state risolte e hanno un po' limitato le aspettative per Linux Mint 21.3. Ma in effetti alcune novità ci sono, specie legate all'edizione Cinnamon e alle novità di Cinnamon 6, di cui beneficeranno anche gli utenti di LM e di E6, uno dei programmi tipici di Mint comuni a tutte le edizioni. Vediamoli. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Per Linux Mint 21.3 c'erano tante nuove idee da parte, ma si sono dovuti ridurre gli intenti per concentrarsi su altro, obiettivi a medio e lungo termine. Gli utenti di Linux Mint lo sanno fin dal post, nel blog ufficiale in cui Clement Lefebvre li annuncia insieme al rilascio latanizio di aggiornamento del sistema operativo. Parliamo di Linux Mint 21.3 Virginia, appena rilasciato in versione definitiva nelle consuete edizioni Cinnamon, Mate e XFCE. C'era un problema legato alla firma per l'avvio di Ubuntu e derivate in ambienti EFI con Secure Boot attivo. Tale problema imponeva da tempo di tenere Secure Boot non attivo per installare correttamente Linux Mint. Il team si è dedicato a rivedere da zero il modo in cui vengono prodotte e impacchettate le ISO che poi scarichiamo per usarle in live ed installare un'edizione di Linux Mint. Adesso il meccanismo è molto più ottimizzato e razionalizzato, riduce la dipendenza da Ubuntu e, secondo Clem, assottiglia le differenze tra come sono preparate le ISO per le edizioni su base Ubuntu e LMDE su base Debian di Linux Mint. Linux Mint 21.3 è rilasciato con pieno supporto per Secure Boot ed è compatibile con una più ampia varietà di BIOS e EFI. Nei sistemi EFI risulta possibile inserire la chiave SIM tra le fidate senza incontrare problemi in caso di installazione in dual boot con Windows. Hypnotics, l'applicazione sempre meno rudimentale e apprezzata dagli utenti di Linux Mint per la visione in chiaro in streaming di TV di tutto il mondo è tra quelle che troviamo aggiornate. Adesso è possibile salvare canali preferiti e richiamarli da apposito menu. Il canale viene salvato come preferito indipendentemente dal o dai provider impostati. Di solito Hypnotics viene solo con Free TV, ma nel manuale e nel blog ho suggerito anche un'altra ottima fonte da integrare in Hypnotics. Con Linux Mint 21.3 Hypnotics riceve anche la possibilità di creare propri canali per qualunque flusso in streaming anche senza una playlist o per i propri canali o singoli video preferiti su YouTube o altre piattaforme. E ancora Hypnotics adesso è compatibile con lo streaming di canali YouTube e ricorre ad uno specifico programma per farlo. Talvolta Google è molto rapida nell'aggiornare i propri meccanismi ed avere la più recente versione del relativo pacchetto può fare la differenza. E così Hypnotics viene associato ad una propria versione interna di tale pacchetto. In caso di problemi si potrà selezionare di aggiornarlo senza creare conflitti con la medesima versione, più datata, del medesimo pacchetto nel sistema. Come detto Nemo ed il Desktop Cinnamon sfoggiano una versione 6 che introduce alcune interessanti novità. La più gustosa secondo me è una gestione migliorata delle actions di Nemo. Ne ho parlato in Nemo, il file manager di Linux Mint Cinnamon. Ne ho anche rilasciate alcune mie per il download. Si tratta di opzioni che possono essere inserite nel menu contestuale a seconda di tipi di file o cartelle. Adesso le azioni di Nemo vengono ufficialmente inserite tra le spices, le spezie di Cinnamon. Si tratta di Desklet, Applet, Temi ed estensioni di Nemo finora e ne ho parlato in personalizzare Linux Mint Cinnamon. Li ritengo entrambi imperdibili per un utente di Linux Mint. Finora si potevano aggiungere nuove azioni solo creando o copiando file di testo appositamente creati in una cartella nascosta nella propria home. Adesso le actions si meritano una finestra di gestione come Applet, Temi e Desklet, consultabili da una finestra integrata nel sistema oltre che dal sito web cinnamonspiceslinuxmint.com. Un'altra novità introdotta con Cinnamon 6 è il supporto sperimentale a sessioni desktop Wayland con Cinnamon. Il boss del progetto Mint ha pure detto che il team non si mette alcuna fretta per implantare Wayland in una soluzione che possa essere considerata almeno equivalente a quella X11. non sarà di certo con Mint 22 nel 2024, ma forse con Mint 23 nel 2026. Non so cosa ne pensi, ma strategie a lungo termine sono la fissa di Linux Mint, la cautela è simile a quella Debian. Altre migliorie. L'applicazione per lo scambio di file in rete locale Warpinator riceve la capacità di creare QR code dei codici di gruppo per integrare rapidamente nel gruppo dispositivi dotati di fotocamera e Warpinator per Android. Balky, chiamato rinominatore di file, adesso crea anteprime dei file e supporta il drag and drop. Pix, l'app per l'organizzazione e editing di base delle fotografie, vede risolti alcuni problemi nella riproduzione di video. Cinnamon 6 sfoggia anche molte soluzioni di bug e miglioramenti delle performance, tra cui il monitor usato per le notifiche è configurabile. i menu delle app possono essere modificati con Pulsante destro, Proprietà, Gestures, nuova azione per lo zoom e nuove impostazioni di azioni. Linux Mint 21.3 è rilasciato ancora con il kernel a lungo supporto 5.15 in una base di pacchetti di Ubuntu 2204. Linux Mint 21.3 riceverà aggiornamenti di sicurezza fino alla primavera del 2027. Fino all'estate 2024 non lavorerà ad una nuova base e si concentrerà solo su questa e sul supporto residuo per Mint 20 e successivi rilasci minori fino al 2025. L'ultima edizione raccomandata di Linux Mint si scarica dal sito ufficiale linuxmint.com, o meglio usando un programma torrent come Transmission, Deluge o Qubit Torrent. Altrimenti, se usi già Filezilla o altro client FTP, ti sarà comodo esplorare l'ftp aperto ftp.fau.de con l'ISO di qualunque distro in qualunque versione. Ricorda di scaricare anche le somme SHA256 e verificare che il tuo file sia integro e che una successiva verifica restituisca lo stesso codice. Gli utenti di Linux Mint, ma anche altre distro, cliccando con il pulsante destro del mouse su un file ISO ottengono nel menu la voce Crea penna USB avviabile. Selezionato il supporto di destinazione, in due minuti hai un dispositivo di boot in grado di partire sia su sistemi BIOS cosiddetti legacy che su moderni UEFI. Anche Ubuntu integra un'utilità simile. In ambiente Windows è sempre meglio ricorrere a Rufus e selezionare se l'ambiente di destinazione è quello Legacy BIOS con MBR o EFI con GPT, che è quello più adatto nella maggioranza dei casi. Vale la pena aggiornare a Mint 21.3? Dipende. Se usi ancora una versione di Linux Mint 20 puoi contare ad arrivare fino a primavera 2025 senza essere costretto ad affrontare aggiornamenti. Se hai una edizione di Linux Mint 21 e tutto funziona, aggiornando avresti lo stato migliore delle cose di questa versione che sarà l'ultima delle 21, ma non è indispensabile perché avrai comunque aggiornamenti di sicurezza fino al 2027 con qualunque versione 21. Se non hai mai provato Linux Mint allora un'edizione della 21.3 è la scelta più naturale e saggia, la Cinnamon in un computer con almeno 4GB di RAM ed eventualmente la XFCE per un piccolo incremento di risparmio di risorse. Per passare da una precedente versione di Linux Mint 21 a Linux Mint 21.3 c'è l'apposito strumento dentro gestori aggiornamenti che è rapido e indolore. Non cambiano molte delle cose fondamentali tra Mint 21 e successivi rilasci minori. La base di kernel è la stessa e viene aggiornata e migliorata anche se come congelata a lunga scadenza. Anche i programmi dei repository Ubuntu non dovrebbero variare affatto. Ma prima di qualunque modifica crea uno snapshot con Timeshift. Richiede una partizione Linux come destinazione e non puoi salvare questa istantanea in un disco NTFS per Windows. Ma va bene anche la tua cartella documenti se è abbastanza spazio. Perché anche se il computer non dovesse riavviarsi con una sessione live da chiavetta di Linux Mint, Timeshift sarebbe comunque in grado di trovare l'istantanea e ripristinarla riparando l'avvio allo stato precedente all'aggiornamento. Queste cautele mi servono a dirti. Aggiornare da una versione 21 alla 21.3 non dovrebbe presentare alcun problema o spiacevoli novità. Ma i casi sono tanti. Fondamentale avere una copia del sistema attuale oltre ad aver salvato i propri dati personali. E anche utile sarebbe comunque scaricare la nuova ISO. Provarla in live nel computer in cui usi la precedente versione di Linux Mint. Verificare se funziona schermo, touchpad, connessioni, se la stampante è riconosciuta. E solo se tutto va bene, segui la procedura di aggiornamento. In ogni caso con Linux Mint sei tranquillo per anni. Anche le versioni 20 ricevono ancora aggiornamenti per un anno e mezzo. Linux Mint 21.3 fino al 2027 e già si parla di Mint 22, la sua base LTS Ubuntu 24.04 e piani di supporto fino al 2029. Il futuro è chiaro ed è di lungo respiro. Linux Mint resta una scelta sempre valida per chi non desidera sorprese dal PC con Linux, principiante o meno. Per l'intuitività dell'esperienza desktop dell'edizione Cinnamon, ma anche di quelle MATE e XFCE meno evolute ma che spremano meno il computer. Per il supporto nativo a driver proprietari e la riproduzione di file multimediali di ogni genere anche non open source come DivX e MP3. Una base Ubuntu LTS e una ricca e appassionata comunità di utenti ne riempiono il web di informazioni specifiche e soluzioni di problemi. Poi c'è il forum ufficiale. Chi ci sa fare con le persone e descrive dettagliatamente sintomi e riporta informazioni di sistema riesce a trovare sempre almeno un paio di link da qualcuno. E con l'inglese sei a posto. Linux Mint va bene nel tuo computer non proprio giovane che con Windows arranca. Va bene per il nonno, zii o genitori che trovano icone e menu dove se li aspettano se hanno già esperienza. Al primo posto come ammissione c'è l'affidabilità a lungo termine con i suoi cinque anni per ogni versione maggiore e successive .1, .2 e .3. In alcuni momenti della sua vita si presta quindi a non essere adatta a computer con l'ultimo grido di tecnologie, specie se sono state diffuse dopo il sistema operativo di base. Ma anche per i PC più nuovi esiste un'edizione Edge di Linux Mint Cinnamon. È dotata nativamente, al momento, del kernel 6.2 per l'avvio su sistemi che lo richiedono indispensabilmente. Ma a chiusura del post di fine dicembre, Clem spiega che durante i test nella fase beta di Mint 21.3 sono stati riscontrati problemi con alcuni tipi di hardware, tra cui le più recenti schede grafiche AMD, ma anche chip wireless e controller SSD usati nei portatili Acer. Il problema è superato con l'installazione del kernel 6.5 ed è per questo che è in preparazione una nuova ISO dell'edizione Edge di Linux Mint che sfoggerà un recentissimo kernel 6.5 come predefinito. Anche se non hai problemi di hardware, potrai comunque installare con un click il medesimo kernel 6.5 in tutte le edizioni di Mint 21.3 senza ricorrere alla ISO Edge. Quando la scelta ricade su Linux Mint ovviamente ci sono un blog ed un canale YouTube che ne hanno fatto un omaggio ad una distro molto popolare ed apprezzata. Pieni di informazioni e tutorial gratuiti. E per contenuti riorganizzati ed esclusivi, non presenti altrove, anche i miei ebook la cui vendita contribuisce a far crescere il progetto su tutti i versanti. Tu sei utente di Linux Mint o stai pensando di metterlo alla prova? Oppure no? Perché? Raccontacelo nei commenti. Intanto ti ringrazio per la visione del video e ti rimando alla prossima. Novo proprio Milano Lo p Fre50 Novo proprio Non Craio Novo proprio Sopordon